Noi studenti e studentesse, tutto il comitato priorità alla scuola di Roma, siamo qui davanti al Pantheon per rivendicare quello che c'è scritto sul nostro striscione, che siamo noi la next generation. La nostra categoria sociale di noi studenti e studentesse, io sento che è abbandonata e calpestata dal resto delle categorie sociali, per cui siamo qua per chiedere un investimento strutturale serio e lungimirante sul sistema scolastico. Siamo qui in piazza per esprimere la nostra grande gioia perché finalmente i ragazzi sono tornati in classe. La DAD è stata un'esperienza terribile per alcuni, molti purtroppo, negli ultimi dieci mesi è stata enormemente preponderante, molti sono andati a scuola non più di tre settimane negli ultimi dieci mesi. È sicuramente una misura che serve per tamponare nell'emergenza, ma non poteva essere tenuta più a lungo. Chiediamo che mano a mano la percentuale di scuola in presenza aumenti, perché adesso siamo sostanzialmente al 50% e speriamo che aumenti.